La storia infinita, l'odissea dei pendolari della tratta ferroviaria Bassano-Padova-Padova-Bassano. Ogni giorno è sempre peggio, come conferma chi quotidianamente è costretto a prendere il treno per recarsi al lavoro e tornare a casa. Stefano Miotti ha chiamato Rete Veneta per denunciare una situazione diventata insostenibile, tra ritardi continui, passeggeri stipati come bestie, se non addirittura lasciati a terra. Questa mattina c'è stato un problema con il treno che dalle 7.40 parte da Bassano a Padova e da Rossano-Veneto in poi la gente era in piedi e da San Giorgio delle Pertiche in poi sono rimasti a terra perché il treno aveva tre carrozze anziché cinque, quindi 210 posti anziché i soliti 500. E per i passeggeri lasciati a piedi, oltre al danno, la beffa. Avevano un nuovo biglietto regionale che ha una validità giornaliera, il viaggio è stato perso, hanno perso il biglietto perché sono venuti a Padova in auto e il biglietto ha una validità temporale di un solo giorno e quindi non può essere utilizzato negli altri giorni. Noi chiediamo che venga riaffrontata anche questa questione dando una validità di almeno 30 giorni al biglietto. Si riceva il disagio di oggi, non è una novità per i pendolari. Ci sono stati diversi problemi anche la settimana scorsa, ad esempio con un passaggio a livello forzato a San Giorgio delle Pertiche ci sono stati dei ritardi tra un'ora e i 20 minuti per tutte le linee che da Padova va a Campo San Piero. E come rappresentante dei pendolari lancia un messaggio diretto alla regione. Abbiamo chiesto da tempo che vengano aumentati gli stanziamenti regionali che adesso sono allo 0,11% del bilancio. Teniamo presente che regioni come la Lombardia spendono lo 0,64% del bilancio e l'Emilia Romagna lo 0,27%. Quindi questi problemi continueranno ad esserci finché non si metteranno risorse adeguate sul sistema ferroviario regionale.